E finalmente siamo riusciti a far fare un tavolo finale a Francesco Zollo. Eccolo qui, siamo al tavolo EZAP con Francesco, come stai? Molto bene, grazie. Buongiorno a tutti. Bene, e l'altro concorrente del tavolo EZAP è Vinci K7. Vincenzo, non ha bisogno di presentazioni, come stai? Bene, abbastanza bene. Sono in EZAP finalmente con il più grande campione del mondo. Questo è il tavolo finale e questo è l'unico modo per far fare un tavolo finale a Francesco. Francesco, raccontaci il tuo fantastico torneo prima della mano con cui sei uscito. Ah, c'è poco da raccontare. No, no, non c'è niente da raccontare. Il day 1 è andato bene. Il day 1 è andato bene, oggi mi sono seduto, ho sbagliato una mano, quindi mi sono accorciato subito. E poi ho preso due colpi che se li vinco sono già al final table. Però invece è andata male. Secondo noi soffrivi un pochino la presenza alla tua sinistra di Giorgio Silvestrini, che ti giocava in posizione? No, no, assolutamente no, perché Giorgio l'ho buttato fuori anche venerdì, l'ho buttato fuori dal torneo. No, quindi no, assolutamente. Giorgio per me non è niente, cioè non è un giocatore di poker, Giorgio. Spiegami, come mai allora tu sei qui e lui è ancora al tavolo? Perché è molto forte. Senti, programmi per il 13-23 maggio, campionato italiano di poker, quanti tornei farai? L'Eureka a Bucharest da 1100. No, 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 quello no, io parlavo delle ISOP di maggio. No, 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 non le faccio, non le vengo più a fare. Faccio il pokerino, faccio Eureka a Bucharest e poi credo di andare a fare, non so, adesso decido. Non so, dove mi invitano? Qua non mi invita più nessuno a ISOP e quindi io non so se verrò ancora. Io ti vorrei fare una proposta, visto che sei veramente forte, un torneo di go-kart che lì almeno vai. Sì, lì sono fortissimo. Ieri ho dato 5 secondi a tutti e quindi non ce n'è per nessuno. Se vogliamo possiamo andare anche oggi, almeno prendo qualche soddisfazione. Vinni, una domanda seria, importante e tecnica su quello che è il discorso del poker in Italia. Ma secondo te Francesco Zollo può presentarsi con queste scarpe? Io infatti volevo proprio chiedere al nostro Cosimo di inquadrare le scarpe di Zollo. Scusa, puoi inquadrarle? Secondo te può mai arrivare un tavolo finale con quelle scarpe? Io dico, cioè, è anche un bel giocatore stimato dai giocatori, dai players, dai dealer, dai floor, però poi gli guardano le scarpe e dicono non puoi partecipare. È un bel ragazzo. Eh, purtroppo è così, però ognuno ha i propri difetti, non ci si può fare niente. Con questo salutiamo Francesco Zollo e ricordiamo che dal 13 al 23 maggio... Ho preso per i campionati italiani, mi raccomando che bisogna essere presenti. Bravo! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.